È sicuramente una vittoria importante, soprattutto perché è arrivata dopo la sconfitta contro Bologna. Anche stasera è stata una partita difficile perché Anvil è un team molto esperto e molto solido. Noi abbiamo certamente alcune cose su cui dovremo lavorare, soprattutto in difesa, ma crediamo di essere sulla giusta strada. Adesso ci concentriamo con la partita contro Brescia che dovremo affrontare nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista emotivo. Io credo che siamo molto vicini a riuscire la sconfitta. Ci sono approcciato questo gioco in Brescia con molti emozioni. Perché sono stati soddisfatti della vittoria, ma non siamo soddisfatti della nostra performance come squadra, specialmente come dicevo, perché abbiamo giocato in difesa. Non abbiamo avuto problemi a segnare, però l'aspetto difensivo è qualcosa su cui dovremo lavorare più per dare il meglio di noi nella prossima partita sabato a Brescia.